Ben ritrovati! Al Festival Biblico ho anche testimonianze di come curare l'umano a partire dalle periferie. A spiegare come la povertà ci indichi il futuro sono stati tre preti di frontiera che ogni giorno danno voce agli ultimi. Sono Don Luigi Ciotti, Don Gino Rigoldi e Don Virginio Colmegna. Luigi Ciotti è un sacerdote di origini bellunesi, nato a Pieve del Cadore nel 1945 e a cinque anni si è trasferito con la famiglia a Torino. Ordinato nel 1972, a Don Luigi Ciotti viene affidata come parrocchia la strada sin da subito, letteralmente visto che il giovane prete si dedica con tutto se stesso ad ascoltare e aiutare il fenomeno, nuovo allora, di tossicodipendenti in strada. Nel 1974 1974 apre la prima comunità e da allora la sua opera di prevenzione e recupero di tossicodipendenze e alcolismo non si è mai fermata. Negli anni 90 intensifica anche l'attività di denuncia e contrasto alla mafia, dando vita al mensile narcomafia e alla reti di volontariato libera. Dall'odio e l'orrore seminato dal terrorismo all'indifferenza verso il dramma dei profughi, lei dice la terra si salva come il cielo, ma come? Beh, che ognuno di noi si deve assumere la propria parte di responsabilità. Il cambiamento bisogna di ciascuno di noi, noi dobbiamo essere un segno di cambiamento, lo chiediamo alla politica, alla politica internazionale, lo chiediamo alle istituzioni, ma dobbiamo chiederlo anche alla nostra coscienza. Non possiamo stare a guardare alla finestra, non possiamo pensare che tocca sempre agli altri. Papa Francesco l'ha chiamata la globalizzazione dell'indifferenza, allora dobbiamo rispingere le forme di indifferenza, dandoci da fare un pochettino di più ciascuno di noi. Poi per un cristiano, penso qui a chi eravamo questa sera, due sono i grandi riferimenti, il Vangelo, che è la parola che graffia, che graffia dentro, che non fa sconti, cipita a metterci di più in gioco, fa la nostra parte. Un cittadino italiano, il secondo riferimento della Costituzione italiana. E quell'articolo 3 chiede anche a noi la collaborazione perché si lotti contro la povertà, contro le disuguaglianze, contro la mancanza di quelle opportunità, di quei servizi fondamentali per le persone. Dobbiamo essere cittadini veri, non cittadini in intermittenza. Non basta essere persone che quando scendono le tragedie, che noi ci commuoviamo, che è un sentimento legittimo, ma che ci muoviamo di più tutti. E soprattutto non dimenticarci che anche i nostri Vescovi, in un bel documento di anni fa, Educare Legalità, ci hanno invitato ad essere capaci di saldare la testimonianza cristiana con la responsabilità civile. Lei dice anche una frase che può stupire un cristiano, ovvero non serve la solidarietà. Cosa vuol dirci? È una provocazione, la solidarietà deve essere il nostro DNA, che vuol dire l'attenzione agli altri, l'accoglienza degli altri. Ma non basta neppure accogliere, dobbiamo riconoscere alle persone. Non basta accorgersi che loro ci sono attorno a noi, ma dobbiamo sentire che sono dentro di noi gli altri. Allora quando io dico attenzione, la solidarietà non diventi riempirci la nostra bocca, no? Non deve mai venire meno, varrà mai meno, perché anche la prima dimensione della giustizia, guarda caso, è la prossimità. Però non diventi l'alibi, perché io volevo dire, e lo dico con forza sempre, che abbiamo bisogno di diritti, cioè di giustizia innanzitutto, perché solo così possiamo veramente fare in modo che non si moltiplicano le disuguaglianze, le povertà, le marginalità sulla faccia di questa terra. E poi la relazione, che è fondamentale, nell'incontro con gli altri e l'unità di misura dei rapporti umani non verrà mai meno. L'attenzione alle persone, al loro riconoscimento non verrà mai meno. Ma non vogliamo che diventare i delegati, occupatevene voi di tutto questo, no? Chiediamo giustizia e diritti per tutti. Come si coltiva l'umano oggi? L'umano rispettando le persone, amando le persone, amando le persone, riconoscendole, che è un atto di profondamente amore, amandole le persone. Andiamo a ricoperare questa dimensione dell'amore, ma l'amore non delle parole, dei proclami, dell'esteriorità, è l'amore del cuore, questa capacità di andare dritto al cuore della gente. E noi abbiamo perso questa dimensione, abbiamo perso molte relazioni, abbiamo perso l'anima dentro i nostri contesti. C'è tutto di corsa, tutto di fretta, tutto bruciato. C'è il rischio di consumare anche il tempo, una corsa contro il tempo. Invece il tempo dobbiamo farci all'amico per essere capaci di svolgere quelli che sono i nostri impegni, le nostre responsabilità, ma per essere anche più capaci di amarci, di trovare questa dimensione, di viverla profondamente. Amare, soprattutto, al di là degli affetti, dei rapporti tra le persone più vicine, è un atto di grande amore. Impegnarci per andare incontro a quelli che fanno più fatica. Virginio Rigoldi è un milanese doc, nato nel 1939 nel quartiere di Crescenzago. Ex operaio, entra in seminario e diventa sacerdote a 28 anni. Nel 1972 chiede e ottiene di diventare cappellano del carcere minorile di Milano Cesare Beccaria. Da allora si dedica a dare una risposta e un aiuto ai ragazzi detenuti, sia quando sono all'interno che quando escono, terminata la pena. Per evitare che trovino il vuoto, per dar loro la possibilità di un nuovo futuro, assieme ad alcuni volontari, fonda l'associazione Comunità Nuova. Come si fa a ridare speranza a chi vede solo il buio davanti a sé e non un domani? Beh, cominciamo a parlarci, insomma. Poi ciascuno dice la sua, io dico la mia e si ragiona insieme. C'è bisogno di incontrare qualcuno che non abbia delle chiacchiere, ma dei sogni che siano un po' concreti. Poi magari fare vedere anche qualche tipo di esperienza già vissuta. Quelle cose già fatte, prima parlavo delle case, a un affitto accessibile. Ma non so, i giovani oggi sono dispersi. Se venite a vedere i miei 130 che adesso andranno in Romania a fare volontariato, dovrebbero essere una bella gioventù, entusiasta, in movimento. Cioè bisogna parlarci e far vedere delle esperienze che sono positive, non per esibire qualche cosa, ma per dar magari qualche linea di intervento. Per dire così si può fare, si può ripetere, se tentiamo, magari ti diamo una mano a organizzare bene la cosa, perché sai, io ho detto anche prima, il cuore è un punto di partenza, poi ci vuole anche un po' di mestiere per far accadere delle cose belle. Ci sono un sacco di cose belle che capitano in Italia dalle nostre parti e nelle nostre parrocchie, nelle nostre diocesi. Come si coltiva l'umano? Beh, io credo che ci sia una qualità umana fondamentale che si chiama la relazione, la capacità di dare valore agli altri, di coltivare il pregiudizio con l'altro o con l'altro, forse posso parlarci, possiamo fare delle cose insieme, posso incontrare delle belle capacità, posso scambiare qualche cosa che insieme possiamo fare. Cioè il pregiudizio deve essere che l'altro può essere un mio fratello, una mia sorella, un mio amico, una mia amica, quello a quale posso fare delle cose belle, per me, per la parrocchia in cui sono, per la vita, per la mia famiglia, per il quartiere in cui vivo. Se il pregiudizio invece è forse mi frega, forse farà la sua parte e porterà via qualcosa a me, forse non è cattivo, boh, è finita tutto, Alena. È la fiducia nel bene che può far cambiare le persone e anche cambiare le situazioni anche di una famiglia, di un palazzo, di un condominio, di un quartiere. Virginio Colmegna, nato in provincia di Varese nel 1945, è stato ordinato sacerdote nel 1969. Nei primi anni ha seguito la parrocchia milanese della Bovisa e già a partire da allora il suo impegno nell'azione cattolica non si è mai fermato. Ma il sacerdote si è impegnato su molti fronti. Negli anni Ottanta ha promosso diverse cooperative e comunità di accoglienza, principalmente nel campo della sofferenza psichica e dei minori. Nel 1993 il cardinale Carlo Maria Martini lo ha nominato direttore della Carità Sambrosiana, ruolo che ha lasciato nel 2004 per dedicarsi a tempo pieno alla Casa della Carità, una struttura che accoglie i più poveri, gli uomini e le donne, cercando di reinserirle nella società, ma anche i piccoli nuclei familiari sfrattati e mamme sole con i loro bambini. Che lezione ci arriva dalle periferie del mondo e che lezione invece ci arriva dai centri di potere? A dare periferie del mondo viene questo stragrande sguardo nuovo che dobbiamo portare, sofferto qualche volta che però i poveri sono la stragrande maggioranza dell'umanità e quindi se vogliamo avere uno sguardo sull'umanità dobbiamo partire da loro e ascoltare il loro grido, le loro lacerazioni, la loro storia, perché altrimenti il mondo diventa disumano e ci riempie di infelicità, di ingiustizia, di indignazione, di rabbia. Quindi è una sfida molto grossa questa, di partire dalle periferie, non tanto perché sono periferie ma perché sono il centro, il cuore dell'umanità, quindi bisogna partire da lì. E dai centri di potere invece cosa ci arriva? Dai centri di potere viene una grande lontananza, pensano che la realtà sia loro, cioè assolutamente devono scontrarsi con questo, cioè la finanza, quelli che hanno provocato la crisi poi arrivano, c'è solo un dato quantitativo, bisogna riportare dentro un altro discorso anche rispetto all'economia, rispetto alla capacità di progettare. Credo che le parole del Papa ci aprano uno squarcio che non è solo uno squarcio retorico e morale, è uno squarcio carico di umanità, carico di etica, ma appunto per questo capace di imprimere una svolta anche politica e la logica di potere va interrotta profondamente. Come si coltiva l'umano? L'umano si coltiva custodendo la tenerezza, custodendo lo sguardo, entrando in relazione di prossimità con le persone, superando le crisi, avendo una gran voglia di vivere e di innamorarsi. Grazie a tutti.